Quando ambedue i figli di Latona, coperti del montone della libra, fanno dell'orizzonte insieme zona, quant'è dal punto che il cenit in libra, infinché l'uno e l'altro da quel cinto, cambiando l'emisperio, si libra? Tanto col volto di riso dipinto si tacque Beatrice, riguardando Fiso nel punto che me avea vinto. Poi cominciò Io dico e non dimando quel che tu vuole udir, perché io l'ho visto l'ave sapunta ogni ubi e ogni quando. Non per avere a sé di bene acquisto che esser non può, ma perché suo splendore potesse, risplendendo, dir subsisto, in sua eternità di tempo fore, fuor d'ogni altro comprendere come i piacque, saperse in nuovi amor l'eterno amore. Né prima quasi torpente si giacque, che né prima né poscia procedette lo riscorrer di Dio sovra quest'acque. Forma e materia, congiunte e purette, usciro ad esser che non avvia fallo, come d'arco tricordo tre saette. E come in vetro, in ambra o in cristallo, raggio resplende sì, che dal venire all'esser tutto non è intervallo, così il triforme effetto del suo sire, nell'esser suo raggiò insieme tutto, senza distinzione in essordire. Con creato fu ordine costrutto alle sostanze, e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu prodotto. Pura potenza tenne la parte ima, nel mezzo strinse potenza con atto tal vime che giamai non si divima. Gironimo vi scrisse lungo tratto di secoli degli angeli creati, anzi che l'altro mondo fosse fatto. Ma questo vero è scritto in molti lati dall'Iscrittor dello Spirito Santo, e tu te ne avvedrai sebbene agguati. E anche la ragione il vede alquanto, che non concederebbe che i motori, senza sua perfezione, fossero cotanto. Or sai tu dove e quando questi amori furon creati, e come, sicché spenti nel tuo disio, già son tre ardori. Ne giugnerie si innumerando al venti, si tosto come degli angeli parte, turbò il soggetto di vostri elementi. L'altra rimase, e cominciò quest'arte che tu riscerni, con tanto diletto, che mai da circuir non si diparte. Principio del cader fu il maladetto superbir di colui che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto. Quelli che vedi qui furono modesti a riconoscer sé della bontate che le vi ha fatti, a tanto intender presti. Perché le viste lor furo essaltate, con grazia illuminante, e con lor merto, sicanno ferma e piena volontate. E non voglio che dubbi, ma sia certo, che ricever la grazia è meritorio, secondo che l'affetto l'è aperto. O mai d'intorno a questo consistorio puoi contemplare assai, se le parole mie son ricolte, sanzaltro aiutorio. Ma perché in terra per le vostre scuole si legge che l'angelica natura è tal che intende, e si ricorda, e vuole, ancor dirò, perché tu veggi pura la verità che laggiù si confonde, equivocando in si fatta lettura. Queste sostanze, poiché fur gioconde della faccia di Dio, non vuol serviso da essa, da cui nulla si nasconde, però non hanno vedere interciso da nuovo obietto, e però non bisogna rememorar per concetto diviso. Sicché laggiù, non dormendo, si sogna, credendo e non credendo, dicer vero, ma nell'uno è più colpa e più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero filosofando, tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza e il suo pensiero. E ancor questo quassù si comporta con men disdegno che quando è prosposta la Divina Scrittura o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace chi umilemente con essa s'accosta. Per apparere ciascun si ingegna e face sue invenzioni, e quelle sono trascorse da predicanti e il Vangelo si tace. Un dice che la luna si ritorse nella passione di Cristo e si interpose perché il lume del sol giù non si porse, e mente che la luce si nascose da sé, però all'Hispania e a Indi come a Giudei tale eclissi rispose. Non a Fiorenza tanti lapi e bindi, quante si fatte favole per anno in Pergamo si gridano quinci e quindi. Sicché le pecorelle che non sanno tornano del Pasco pasciute di vento, e non le scusano vederlo d'anno. Non disse Cristo al suo primo convento, andate e predicate al mondo ciance, ma diede lor verace fondamento. E quel tanto sonò nelle sue guance, si capugnare per accender la fede dell'Evangelio, ferro scudo e lance. Ora si va con motti e con iscede a predicare, e pur che ben si rida, gonfia il cappuccio e più non si richiede. Ma tale uccelle nel becchetto sannida, che se il vulgo il vedesse, vederebbe la perdonanza di che il si confida. Per cui tanta stoltezza in terra crebbe, che, senza prova ad alcun testimonio, ad ogni promession si correrebbe. Di questo ingrassa il porco Sant'Antonio, e altri assai che sono ancor più porci, pagando di moneta san saconio. Ma perché siamo digressi assai, ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada, sì che la via col tempo si raccorci. Questa natura, sì oltre, si ingrada in numero, che mai non fulo quella né concetto mortal che tanto vada. E se tu guardi quel che si revela per Daniel, vedrai che in sue migliaia determinato numero si cela. La prima luce che tutta la raia, per tanti modi in essa si recepe, quanti son gli splendori a chi s'appaia. Onde, però che all'atto che concepe segue l'effetto, damarra dolcezza diversamente in essa ferve e tepe. Vedi l'eccelso mai e la larghezza dell'eterno valor, poscia che tanti speculi fatti sa in che si spezza uno manendo in sé come davanti.